bella ragazze vedo questo nuovo video io sono pochi e oggi siamo tornati qua su super maria 64 sì sono un po strano farlo e sono un po strano da proprio appunto questo video è appunto questo video esce di mercoledì invece di farlo uscire martedì però come sapete ieri c'è stato scattati gli angry game simulator quindi ma vado nella ciancia cominciamo ma aspetta dove sto andando non so non so dove non so dove devo andare ragazzi dov'è un po' andare qui va ma mario vola nel cielo a 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 no maledizione 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 aspetta a 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 Oh Mamma mia C'è quattro vite Perse per una cosa Allora Oppila Quattro 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 Allora, bene. No, c'è un'altra battaglia a lato, per favore. Sta finendo. No, aspetta, arrivo a quella centrale, ragazzi. Ok, è questa. Oh! Ok, devo tornare lì e giù. Questa è la stella. No, non è lì. Eccola lì. Ce l'ho fatta, ragazzi. Ok. Ok. Facciamola, facciamola un'altra, eh. Vediamo un po', eh. Wamp's Fortress. No, aspetta. Facciamo Clear Mountain. No, aspetta. Clear Mountain, ok. Doveve essere qui, no. Non è qui. Eh. No, aspetta. Qua c'è... Castello. Quindi dovrebbe essere l'ultima. Ok, se non è quella, non è... Se non è quella, è quella. È questa. Se non è solo fa, è fa magnato. Vai, ben tempo, ben tempo, ben tempo, ben tempo, ben tempo, ben tempo. Vabbè, la stessa, va bene, la stessa, devo diventare qua. Diventare qua. Allora, dunque. Qua... Ok. Devo, devo... Questa volta non devo usare la... Oh. Questa volta non devo usare la... Non devo usare questo. Oh, oh, oh. No! Maledizione. Ok. 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 ok oh 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 siamo attenti attenzione ok ah polva stretta credo è stata un po' larga oh no maledizione questa sfalciatoia no no non mi serve non mi serve la sfalciastella no ricordiamo che non devo usare ascoltatoio in questa pista questa volta anzi ok ok non non no siamo attenti ragazzi siamo attenti stiamo attenti stiamo attenti stiamo attenti no 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 è saltato perché è assaltato prima quindi li facciamo da capo però però siamo attenti però siamo attenti una sua attenzione ok ok oh 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 ho capito che ho capito che non devo fare la attraversata in scivolata ok ok anche un po' si perde anche un po' si perde una vita ma mamma mia ecco no 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 siamo calmi ragazzi siamo calmi siamo calmi no 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 hai buttito il mio orecco, è incredibile, io penso che tu sia il migliore, no io pensavo che fossi il migliore, però adesso abbiamo provato che tu sei anche più veloce, non posso darti una medaglia d'oro, però posso darti questa stella, te la sei meritata, ok grazie bene ragazzi, io direi che per questa parte può essere tutto, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video, ciao!